Ma in questo momento abbiamo deciso di fare la strada, di sfruttare proprio la disposizione, di cercare ogni giorno di fare il massimo delle persone, perché c'è da tutti i sani in questo momento. In questo momento è ancora più maturo, è arrivata la generazione ancora molto tempo, di non fare le buone frazioni, quindi se ci saranno quell'opportunità o se non ci saranno ancora tutti, perché in questo momento secondo me stiamo facendo il primo percorso e dobbiamo entrare in questo momento. Crede che lo scudetto vuol dire terza bocca, vizzi sui strati, il terzo è vinto per salvare un soppietto. Ci sono dei segnali per arrivare in questo momento, noi abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions, perché la scelta sia da conto in vista tecnico e economico, e mentre le giochi crede, non so di cui meritare, poi vediamo se a sbagliarci dei limiti, ma in questo momento la diavola stessa, mi sembra che lui, in direzione. No, però, da che venne, giustamente per l'emica un po' possiamo prendere in Italia in assoluto, ma grazie a te per gli amici di sportività. Sì, alla fine, un'ambiente che tu crei, che poi fa crescere i faccitori, per avere la forza di far crescere i nostri, che dobbiamo continuare i faccitori. Grazie di più. Grazie a tutti. Grazie di più. Grazie a tutti.